Questo mondiale lo stiamo preparando, curando veramente tanto i dettagli, i particolari e tutti i 44 che siamo fondamentalmente qua, io in primis come tutti gli altri miei compagni ci siamo dati un'idea, un unico focus che è quello di riuscire a essere la miglior squadra italiana di sempre cioè fare il miglior risultato che una nazionale maggiore italiana abbia fatto al mondiale e penso anche comunque nel complessivo che sia arrivare ai quarti di finale del mondiale quindi io penso che al di là del singolo e comunque in primis vuole esserci a questo appuntamento che non capita tutti i giorni, sia proprio quello di lavorare per l'Italia per far sì che si ricordi di questo gruppo più che del singolo ma del gruppo che ha fatto qualcosa che non era mai successo negli ultimi mondiali